Tu invece non lo sei abbastanza. Perché tu ormai sei già morto. A quanti mi si parano davanti intenzionati ad uccidermi, io rispondo con la forza dei miei colpi. Nessuno di voi sa perché l'occulto Schinken venga trasmesso in linea di successione diretta in quanto campo più potente. Ora ve ne darò dimostrazione. Assimilare il colpo dell'avversario come fosse tuo. Tecnica della sacra scuola di Ocuto, riflesso dello spirito. Souser, è arrivato il momento di porre fine alla tua grandiosa marcia. Tra tutti i punti di pressione del corpo umano ho colpito quello dalla maggior forza distruttiva. Ascoltami Souser, la tua vita avrà termine fra soltanto tre secondi. Vivrai dentro di me, Shu della stella della benevolenza. Souser, maledetto! Quando avrò finito di te non resterà un capello. Non resterà niente di te in questo mondo! Tecnica segreta dell'occulto Schinken. Attivazione della distruzione celeste! L'attivazione della distruzione celeste colpisce i punti di pressione con lo spirito combattivo senza toccarli. La stella del comando è destinata a soccombere.